Quando pensiamo al DNA ce lo immaginiamo ripiegato nella sua configurazione classica, quella a doppia elica. In realtà esistono anche delle strutture non canoniche che il DNA può assumere e una di queste è la struttura a quadrupla elica, oggi quadruplex, che è l'oggetto di uno studio pubblicato su Nature Communications e realizzato grazie alla collaborazione tra l'Università di Padua e l'Università Nodui Max Millian di Monaco. A coordinare la ricerca è stata la professoressa Sara Richter del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padua. Buongiorno professoressa, grazie di essere in collegamento con noi. Buongiorno. Dunque cosa si intende prima di tutto quando si parla di strutture non canoniche del DNA, cioè quali configurazioni alternative può assumere il DNA diverse da quella classica della doppia elica e cos'è in particolare la struttura a quadrupla elica? Allora definiamo prima che cos'è la struttura classica, quindi doppia elica, perché le basi si appaiano secondo le regole di Watson and Crick, che sono stati i due scienziati che hanno scoperto proprio questa struttura. Diciamo che le strutture non canoniche sono tutte quelle che non sottostanno a questa regola. Quindi possiamo trovare per esempio delle strutture dove la doppia elica e per un piccolo tratto abbiamo delle basi che non si appaiano, e queste vengono chiamate per esempio bulge, loop, eccetera. e poi però abbiamo invece delle strutture più importanti che non si appaiano secondo i classici legami di Watson and Crick. Queste possono essere per esempio sequenze triplex oppure sequenze cruciformi dove addirittura quattro doppie eliche si incontrano fra di loro e poi strutture invece a quadruplex o a struttura quaternaria che si possono formare in regioni ricche di guanine, e qui abbiamo i G-quadruplex, o regioni ricche di citosine e abbiamo gli i-motif. Ecco, fra tutte queste strutture non canoniche sicuramente quelle più studiate ad oggi sono i G-quadruplex, perché se ne è capita la rilevanza, la significatività da un punto di vista biologico, anche se non è sempre stato così. Diciamo che i G-quadruplex, o meglio il fatto che le guanine avessero un comportamento particolare, strano, è noto da più di un secolo, quando si è osservato che degli estratti di pancreas, formavano una soluzione gelificata e si è capito che questi erano costituiti da acido guanidilico, ovvero formato da guanine monofosfato, che è il mattoncino che va a formare la base guanina nel DNA. All'epoca il DNA era stato certamente scoperto, ma non si era capita l'importanza del DNA, non si sapeva ancora che fosse sede dell'informazione genetica. Ci sono voluti più di 50 anni perché queste osservazioni venissero riprese, venissero riprese proprio da uno scienziato, Hoogstein, che ha dato il nome ai legami particolari, non Watson and Crick, che si formano proprio nei G-quadruplex, ovvero in queste strutture abbiamo quattro guanine che si legano mediante questi legami di Hoogstein. Per definire la rilevanza di questi G-quadruplex ci sono voluti altri anni. All'epoca si pensava fosse più un esercizio da chimici, ma che non avesse assolutamente questo campo applicazione di interesse. Però è da notare che ci fu un premio Nobel che di fatto lavorava in questo campo, il quale disse ma in realtà se questi G-quadruplex in vitro, quindi a partire da guanine, si formano così spontaneamente, così velocemente, evidentemente la natura ha trovato un modo per sfruttarli e direi che questo si sta rilevando via via di più essere il caso. Anche una breve digressione, in realtà è stato scoperto che per esempio questi aggregati di guanine formano dei cristalli in una specie particolare di ragno e questo sfrutta questi cristalli di guanine per cambiare il suo colore di occhi. Oppure anche un pesce che vive nelle profondità marine sempre sfrutta cristalli di guanine come recettori della pochissima luce che si trova in quei luoghi. Ecco, ma per tornare IG-quadruplex e la rilevanza di questi, negli anni 90 e poi primi 2000 si è visto che delle sequenze che formano il nostro genoma possono ripiegarsi e formare queste strutture. In particolare le sequenze che si trovano alle estremità dei cromosomi, non solo degli esseri umani ma anche in realtà di tutti gli animali, sia i vertebrati che i vertebrati, queste sequenze che vengono chiamate telomeri possono foldarsi e ripiegarsi a G-quadruplex. Da dire che i telomeri sono molto rilevanti perché regolano la vita della cellula, l'età della cellula e sono coinvolti anche nella trasformazione tumorale, sono disregolati quando si ha una trasformazione tumorale. Quindi si è cominciato a intuire come potesse esserci una rilevanza di queste strutture proprio nel campo dei tumori. Non solo, è stato poi dimostrato come sequenze nei promotori dei cosiddetti oncogeni. Allora i promotori sono le sequenze che regolano l'espressione di un gene e gli oncogeni sono i geni che regolano la crescita di una cellula. Normalmente sono geni che devono funzionare ma quando qualcosa va storto possono essere coinvolti proprio nella trasformazione tumorale. E appunto si è visto come il promotore di oncogeni fossero particolarmente ricche di sequenze che potevano infoldarsi a G-quadruplex. Ancora le osservazioni erano a livello però in vitro, ovvero queste sequenze prese, le piccole sequenze in vitro nel tubetto si vedeva che foldavano a G-quadruplex. Però ancora c'era tantissimo scetticismo in questo campo. Io stessa che all'epoca avevo già cominciato nei primi anni 2000 e poi anche in seguito avevo cominciato a lavorare in questo campo, mi sono scontrata con lo scetticismo da parte degli scienziati. Però nel frattempo si sono cominciate a individuare proteine, cellulare, proteine della cellula che possono legare in modo selettivo queste sequenze, non sequenze ma strutture. E quindi se esistono queste proteine si è detto beh allora probabilmente i G-quadruplex effettivamente sono presenti nella cellula. E poi c'è stata nel 2013 la svolta fondamentale perché sono stati sviluppati degli anticorpi che legano in modo selettivo i G-quadruplex e è stato possibile visualizzare queste strutture proprio nella cellula. E si è visto che effettivamente non si formano solo in vitro ma anche nella cellula sono presenti. E noi stessi siamo stati i primi a visualizzare con questa tecnica, con questi anticorpi nel 2016 queste strutture a livello di virus, cioè cellule infettate con un virus, il virus dell'herpes simplex e abbiamo mostrato addirittura come queste strutture siano collegate allo stadio del ciclo virale. Venendo quindi allo studio, al nuovo studio che ha condotto che è appena uscito, qual è il suo scopo e che tipo di analisi sono state condotte per conoscere ancora meglio la struttura G-quadruplex? Sì, allora lo scopo era di definire lo stato di G-quadruplex su tutto il genoma di una linea cellulare di liposarcoma. Questo è un progetto finanziato dall'AIRC e l'iposarcoma è un tumore raro però per il quale non ci sono terapie. Deriva da cellule adipose e quindi volevamo proprio definire lo stato di G-quadruplex e in più paragonarlo a quello di un'altra linea cellulare, cellule di pelle, quindi keratinociti, per vedere se ci fosse una differenza e dove. Ovviamente sullo stato di G-quadruplex, perché il corredo genetico di cellule che hanno diversa funzionalità è lo stesso, ma è l'espressione dei geni che fa variare l'identità della cellula. Volevamo capire se G-quadruplex avessero qualcosa a che fare con queste differenze e per fare questo abbiamo utilizzato varie tecniche di sequencing, quindi di studio genome-wide, cioè su tutto il genoma. In particolare la tecnica del chip sequencing, cioè chromatin immune precipitation, usando un anticorpo, l'anticorpo specifico per G-quadruplex e poi altre tecniche di sequencing, per esempio per andare a valutare lo stato della cromatina, che può essere più o meno rilassata, e poi per vedere l'associazione con l'espressione genica, quindi RNA sequencing. Quali sono stati i risultati più interessanti o inattesi di questa ricerca? Cioè quali nuove conoscenze hanno permesso di acquisire su questa struttura G-quadruplex? Credo che abbiamo trovato dei risultati molto interessanti. In primo luogo abbiamo definito che tutte le strutture G-quadruplex, ecco voglio fare un appunto qui perché nella cellula ci sono tantissime sequenze che possono in teoria fondarsi, ripiegarsi a G-quadruplex, ovvero hanno quella quantità di guanine necessarie perché si possa formare questa struttura, ma noi abbiamo valutato proprio quali di queste sequenze fossero effettivamente ripiegate nella cellula nel momento in cui abbiamo fatto l'analisi. Abbiamo dimostrato che le strutture G-quadruplex sono presenti nella stragrande maggioranza a livello di promotori di geni, quindi uno, anche se è da dire che non tutti i geni dei promotori hanno la possibilità di formare G-quadruplex. E poi la cosa estremamente importante è che abbiamo dimostrato che lo stesso gene con lo stesso promotore, quindi l'identica potenzialità di ripiegarsi a G-quadruplex in una linea cellulare, per esempio l'iposarcoma, era ripiegato e nell'altra no. E cosa ancora più importante è che il ripiegamento a G-quadruplex era invariabilmente associato all'espressione genica. Quindi i G-quadruplex effettivamente determinano l'identità della cellula e in qualche modo stimolano l'espressione genica. Ora, ho detto in qualche modo, in realtà abbiamo fatto degli studi in più perché in realtà si sa che ci sono delle proteine, chiamati fattori di trascrizione, che legano delle sequenze a livello promotoriale e stimolano l'espressione dei geni. Ecco, noi abbiamo dimostrato che questi fattori di trascrizione in realtà riconoscono le strutture G-quadruplex, alcuni fattori di trascrizione addirittura legano queste strutture a G-quadruplex e quindi evidentemente questi sono degli stimoli per attirare il fattore di trascrizione e quindi dare l'abbio all'espressione genica e quindi di fatto all'identità della cellula. Devo dire che questo è stato un risultato inaspettato perché fino ad oggi si riteneva, e noi stessi ritenevamo questo, che queste strutture in realtà facessero l'esatto opposto, cioè inibissero l'espressione genica, perché in vitro succede questo, però in vitro abbiamo il promotore, il gene, l'enzima che dà l'avvio alla trascrizione, ma non abbiamo per esempio la cromatina, non abbiamo tutte le altre proteine che invece sono presenti nella cellula e quindi veramente questo è un dato importante che fa cambiare il modo in cui si percepiscono e si trattano i G-quadruplex. Quindi quali sono le potenziali applicazioni di questo vostro lavoro in ambito clinico e quali poi i possibili sviluppi futuri per la ricerca? Allora beh, sicuramente dal punto di vista del trattamento dei tumori, visto che i G-quadruplex, lo ripeto, sono presenti soprattutto in geni o sequenze che sono correlate alla trasformazione tumorale, e poi anche per il trattamento delle infezioni, perché abbiamo dimostrato che nella maggior parte dei virus sono presenti sequenze che potenzialmente possono formare G-quadruplex. In alcuni casi abbiamo anche proprio dimostrato che effettivamente si formano. Tra l'altro, volevo anche dire che questo lavoro l'abbiamo condotto in parallelo ad un altro lavoro che è stato pubblicato il mese scorso su una nuova rivista del gruppo Nature, Communication in Biology, e dove abbiamo trovato essenzialmente lo stesso risultato, cioè abbiamo identificato che il fattore di trascrizione maggiore del virus di herpes simplex lega i G-quadruplex virali e attiva la trascrizione virale. Quindi essenzialmente due tecniche completamente diverse, due organismi diversi, in un caso le cellule umane, nell'altro caso un virus, abbiamo trovato essenzialmente lo stesso risultato. Questo sicuramente stimolerà l'uso dei G-quadruplex come target di terapia sia antitumorale che antinfettiva. Devo dire che in realtà sono già state sviluppate molecole che cercano di legare in modo selettivo i G-quadruplex perché prima, anche se si pensava che i G-quadruplex inibissero l'espressione dei geni, si diceva, bene, uso un composto che stabilizza queste strutture, quindi ulteriormente vado ad amplificare l'attività naturale dei G-quadruplex. Adesso si sa che invece l'attività dei G-quadruplex è contrario, però comunque se vado a stabilizzare, anzi dirò, avrò un effetto anche maggiore. Invece di espressione, invece avrò blocco. Quindi l'aver compreso l'attività di queste strutture a livello cellulare, sicuramente ha permesso di compiere un passo avanti nella comprensione dei meccanismi molecolari della cellula e sicuramente anche quindi nella possibilità di andare a sviluppare dei trattamenti specifici che utilizzino questi meccanismi in modo più puntuale e appropriato.